Se hai un nodo allo stomaco, senti qualcosa nell'aria, hai una voce nella testa, sta attento, a volte è un presentimento. C'è nessuno! Siamo qui! Oh mio Dio, che cos'è? C'è un enorme squalo bianco là sotto. Oh, cazzo! Fuori dall'acqua, presto! Aiutati! Restate calmi, ok? Più urlate, più lo squalo si avvicina! Perché ci gira intorno? È curioso, non capisce cosa siamo. Resiste! Ce la faccio! Fate qualcosa! Ehi! Shark 3D Questa volta l'esca sei tu. Cosa? Cosa... Ma! Cosa?